Siamo chiamati ad essere testimoni della speranza, non per le cose che faremo, ma per il nostro modo di essere. Questo l'invito lanciato dall'arcivescovo Riccardo Fontana sabato in occasione della celebrazione per la festa della presentazione di Gesù al Tempio, giornata dedicata da tradizione alla vita consacrata. Per l'occasione i rappresentanti dei diversi ordini religiosi presenti in diocesi si sono ritrovati ad Arezzo. In mattinata il convegno con Don Enzo Caruso, direttore del Movimento Mondo Migliore, poi la processione dal seminario diocesano al Duomo, dove è stata celebrata la messa presieduta dall'arcivescovo. L'incontro con Cristo sarà facilitato a tutti se la vostra carità manifesterà la nostra opzione di fede, se la qualità del vostro incontro con gli altri riuscirà a manifestare la diversità, che è il nome della santità, se riuscirete a consolare gli afflitti, sostenere i poveri, aiutare quanti sono nelle mille croci di ogni giorno. A noi ci è chiesto di essere pieni di dio, in questo tempo di crisi tocca a noi rilanciare gli ideali. Per Fontana la giornata dedicata alla vita consacrata chiede a tutti i rappresentanti degli ordini religiosi di riprendere la voglia dell'incontro, di tornare alle nostre case e pregare con familiarità per tutte le storie di dolore che incontriamo nel nostro ministero. Cristo è rivolto a costruire la famiglia di Dio. Ci è chiesto di avere il coraggio di generare alla fede di non rassegnarci al tempo che scorre con il suo grigiore.